Un brutto incidente, quello accaduto ad Anastasia Nifontova in questa quarta tappa del rally della via della seta, la più lunga finora. La pilota russa, dopo aver perso il controllo della sua moto a metà percorso, è stata immediatamente soccorsa dai paramedici arrivati in elicottero, il sospetto è che abbia una clavicola fratturata. Ma Nifontova non è l'unica ad essersela vista con la cattiva sorte. Il vincitore di ieri, l'argentino Kevin Benavides, ha riportato un guasto al freno anteriore che gli è costato 18 minuti di ritardo, facendolo slittare al dodicesimo posto in questa tappa che si è snodata attorno ad Ulaanba Thor. Doppia vittoria per la Toyota invece, col catariota Alattia che prosegue nel dominio ininterrotto del rally e l'olandese Van Loon arrivati al primo e secondo posto, seguiti da Liu Kin, uno dei sei cinesi, piazzatisi ai primi dieci posti in questa quarta tappa. Un esito simile anche per quanto riguarda i camion dove a trionfare la scuderia Maz con Viasovic e Vasilevski al primo e secondo posto. Giornata pessima invece per la Camaz con tre camion finiti ciascuno con una gomma forata, tra i quali quello del russo Karginov, costretto a ben sei stop per rifornire d'acqua un radiatore perforato, oltre che per il cambio gomme. Nonostante questo, grazie ad Anton Scibalov, il team si conquista comunque un terzo posto.